Il portoghese ha ritrovato Bonucci, resiste l'intesa con gli altri leader. Niente scuse ma tutti vogliono andare avanti, da Chiellini a Buffon 12 giorni fa, a Torino, Ronaldo, ha forse dato il peggio di sé, sbattendo la porta senza nemmeno salutare dopo la sostituzione. La sosta è poi caduta a pennello perché il portoghese, con un poker di gol per la patria, ha potuto rasserenarsi. E, al ritorno alla continassa, ha trovato un ambiente altrettanto calmo, ieri si è allenato ancora in maniera differenziata, per i noti problemi al ginocchio, ma con i compagni più influenti non sono servite approfondite discussioni. Nello specifico, niente scuse, ma un asse comune per spostare ogni, energia sul campo. E magari evitare in futuro altre isterie in mondo visione. Insomma, le tensioni, comunque esistenti, sono messe tra parentesi per il bene di tutti. Anzi, sì, è deciso di gestire con equilibrio. Ieri Cristiano, per la prima volta da Juve Milan, ha ad esempio rivisto Bonucci. E, tra abbracci e battute, tutto è filato liscio, come se niente fosse davvero successo. Copyright, riproduzione e riservata a Let's Block Ads. Why? E, tra abbracci e battute, tutto è vero.